weee non fare il magazzino muffito da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE DAIE oee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono XIUDER e ragazzi con l'aggiornamento di ieri pomeriggio 260 mega è stato presentato in game il nuovo rift beacon alande si ragazzi questo è quello che tutti vediamo ovviamente in gioco ma in realtà tantissimi aggiornamenti sono stati fatti nei codici sorgenti del gioco riguardanti sia l'evento del 6 settembre perché pare che sia veramente confermato il la collaborazione di fortnite con it sappiamo che hanno inserito le risate hanno anche inserito i palloncini quindi dai è quasi chiaro ma soprattutto sono stati inserite sono state inserite nuove stringhe relative allo shop a votazione quindi si presume arriverà tra pochissimo per tutti nel video di oggi parleremo ovviamente del ritorno di kevin perché c'è il rift beacon alande letali vi farò vedere anche delle immagini ad alta definizione di quello che ci sarà sopra l'isola immagini super esclusive ma parleremo anche del ban di face way che face way è ovviamente un membro del clan face che è stato beccato ieri a fare cose che non dovrebbe fare in torneo l'altro ieri c'era il torneo in singolo e ovviamente come vi avevo già anticipato alcuni aggiornamenti sullo shop a votazione prima però volevo ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie di cuore ragazzi per sostenere il canale quando scioppazzate di prepotenza mi raccomando iscrivetevi in tantissimi e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima è e dai ve la devo fare la domandina raga anche ieri mi avete riempito di commenti e vi ringrazio tantissimo per rispondere alle domandine quella di oggi dai è come tirare un rigore a porta vuota però voglio farvelo ugualmente cosa ne pensi del ritorno del turbo building è già ragazzi quanto è durato 20 ore 18 ore la community si è infuriata ha lanciato una stag ritorno turbo building gli elan condiviso 94 mila persone quelli di fortnite ha detto abbiamo fatto la cagata con il mecca si è riuscito in qualche modo a farli stare tranquilli nerfandolo mo gli dobbiamo dare le mazzate sui piedi facendo annullando il turbo building quindi rimessa la possibilità di buildare ogni 0,05 secondi dal secondo pezzo in poi durante le costruzioni dimmi che cosa ne pensi se sei favorevole o se sei contrario o a me ha cambiato niente raga io io easy cioè buildo come buildavo prima quindi non saprei dirvi è qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e mando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere il rift beacon a lande oltre che ad un'immagine lo andiamo a vedere proprio un pochettino più da vicino proprio con uno spezzone di gameplay rift beacon che avevamo già visto spoilerato e liccato nell'arrivo della patch 10.20 che potrebbe portare con sé il anzi che porterà con sé il nuovo kevin non è tanto nuovo perché in realtà noi kevin lo conosciamo ma sarà l'isola fluttuante presente nei negli screenshot o meglio nelle loading screen che ancora ci dovrebbero essere regalate anzi questa è una proprio di quelle ma prima di farvi vedere quello che sarà connesso perché sarà un evento l'isola fluttuante andiamo proprio a vedere le prime immagini ad alta definizione ed eccola qua non guardate ovviamente la location che c'è intorno perché non ci interessa guardate e concentratevi solo sull'isola come vedete si può intravedere dietro quella che sembra un mix tra la vecchia casa che rappresenta loot lake con delle altre case con sopra addirittura è come vediamo qua in questa immagine l'insegna del motel ma non è rotta mi sembra che l'insegna del motel fosse stata rotta nella season 4 dal meteorite e ancora più sopra ma perché c'è il logo la mascotte del durburg è quello che in realtà è presente tuttora la nel bioma verde tra parco pacifico e il quartiere andiamo a vedere ragazzi come in realtà sarà veramente meraviglioso per quanto riguarda gli effetti grafici vedere quest'isola perché sarà sorretta ovviamente dal nostro kevin con tanto di atmosfera viola intorno e una nube che manterrà la sua intensità per tutta la durata dell'evento parlo di evento perché ci saranno anche delle sfide eliminazioni col cecchino sopravvivere agli avversari in solo o in duo fare danni agli avversari con armi con il mirino cercare casse di munizioni a lande letali oppure a rifugio ritirato utilizzare diversi oggetti consumabili in un unico match atterrare alla parte più alta dell'isola fluttuante e sul meteorite visitare loot lake e sunny step nel nello stesso match quindi ragazzi tanta tanta roba per queste nuove sfide che non vediamo l'ora arrivino prestissimo ma andiamo avanti e parliamo di questo simpaticissimo e meraviglioso ragazzotto ragazzi meraviglioso è ovviamente ironica la cosa fades sway ragazzi chi cavolo è fades sway perché non se ne è mai sentito parlare in maniera così intensa fino a ieri perché fades sway ha fatto un pochettino il barbaculo ragazzi nel senso ha un po citato nel torneo in singolo dell'arena voglio farvi vedere questo spezzone di video recuperato da questo ragazzo e che era ovviamente in live che fa vedere il replay come vedete questo è fades sway con la skin del bombarolo oscuro e come vedete si sta per lui sta già ridendo il ragazzo da ridendo perché se notate si parla ovviamente del torneo in singolo se notate dentro questo box ci sono due avversari il primo si trova qua alla sua sinistra ma ce n'è un altro ragazzi non è l'unico lui intanto ha stoppato il video ce n'è un altro che vedremo fra due soli sta già ridendo dice ma che cavolo è dentro e quindi ragazzi stanno un pochettino facendo un vago timi eccolo lì eccolo lì che si può vedere come è imboscato i piedi e sono 1 2 e 3 nessuno dei tre si sta sparando ragazzi quindi ovviamente la cosa è un po puzzata è finita ai piani alti di ep games e sembrerebbe che il verdetto per phase sway sia insindacabile dovrebbe essere eliminato escluso dai competitive per un periodo di tempo ancora indefinito quindi ci sta un pochettino perché non è giusto assolutamente fare teaming in partite competitive ma andiamo avanti con il prossimo argomento e parliamo proprio della stringa delle stringhe inserite oggi relative allo shop a votazione non sarà sembrerebbe un unico oggetto ma sarà un evento dove sarà completato tutto lo shop con oggetti a votazione e dice during the special event you have one vote every day quindi durante l'evento tu potrai fare un voto ogni giorno usa il tuo voto per scegliere l'oggetto che vuoi che ritorni nello shop questo dovrebbe essere proprio una descrizione ufficiale che ci verrà presentata in game quando l'evento speciale finirà la community la comunità sceglierà il vincitore che tornerà nello shop quindi in realtà potrebbe anche semplicemente essere uno essi e ci ricordano sotto attenzione perché non puoi tornare indietro con la tua scelta quindi ogni voto che farai ogni giorno potrà essere uno e uno soltanto quindi mi raccomando ragazzi scegliete bene sceglieremo bene e chissà cosa potrà tornare nello shop speriamo il prima possibile io ragazzi vi ringrazio anche oggi per avere guardato tutte le news mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live alle 8 ciao